Luglio si veste di novembre se non arrivi tu Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più Ragazzi, bentornati qui su Il Mondo della Lama Yoshi Woolly World, qui con il gas arco di pigna e finalmente andiamo al mondo 2 E andiamo al deserto ondeggiante In questo caso non funzionano con me Sono troppo furbo Vagiamondo Eh, che cazzo Eh, oppa E quindi cazzo Vita To, cazzo Oh, qui c'è qualcosa Qui nel tubo invece andrebbe non esserci niente Il problema è che con una mappa così ondeggiante Sono tanti luoghi in cui bisognerebbe star firme Per controllare che sotto non ci sia niente Qua non sembra esserci niente Eh, dai No, vaffanculo Aspetta Dai Ok, non c'è niente da sotto Ma dai Ho già lasciato indietro un gol minuto L'ho detto Sono tanti luoghi dove si possono nascondere Che cazzo da Che cazzo da Non posso neanche Che cazzo devo fare? È immortale Ma no Vai il culo Allora Vado a tornare indietro come un gol minuto Ma cazzo di nozzo queste cose Sono immortali Ecco i miei musicatori tipi Quelli immortali E come cazzo lo prendo questo adesso? E' mortali E' mortali Ho trovato Però non ho proprio come sarà quello che palla il pensare che devo tornare indietro a recuperare un cacchio di convinto c'è un'altra uscita questo cazzo mai non ci credo che palle non c'è la fregatura che due coglioni non è che tanto vuoi già rifarlo per il cominto ma vabbè non c'è non è che lì sopra non c'è la nuova mi è venuta un'altra idea su un'altra cosa però adesso sono convinto che posso farci sia qualcosa ecco vedi che le faceva anche altro che due palle che cazzo è muori muori in questo mondo tu vedo non ci troppo rompi cazzo non c'è 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 di commenta e adesso andiamo a vedere il nuovo Yoshi mi lascio i safari andiamo a vedere al secondo livello grotta fronte nero no fronte retro se non so perché ho detto non so questo sto pensando a la mar la mar montemiro lo so perfero a piovuto un topo e lì 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 e che caccia prima 2 minuti ok non è che non può spessare lì sotto ma neanche i gomitoli stranso non lo scopo ma neanche i gomitoli non lo scopo che botta di culo non lo scopo non lo scopo ma aspetta però lì forse c'era qualcosa esatto mi restavo quasi per perdere per fortuna me lo sono reso conto in tempo adesso da che lato di qua salta via via per qual motivo forse lo so io l'ho già detto tante volte ma lo ripeto sono troppo curvo per questo gioco infatti non lo scopo esatto ok è dato mezz'ora che stai facendo questo giro ma vabbè i gomitoli non bastano mai nooo stavo per dimenticarmi per stare da giustare di qua wow non ci sono murine nascoste andiamo a vederla nella trasformazione che cos'è? è la B per scavare nella direzione sembra quasi polistirolo ma perchè? vorrei ho sparato con un grande slam mi piace lo sci-clam E poi c'è la terra per sé E poi c'è la terra per sé E poi c'è la terra per sé Sono a noio E' un fame No, di qua Lì c'è l'ultimo Non solo capire come prenderlo Andando dal lato giusto C'è lì qua No, sono sceso troppo Ah già Eh potete andare ancora un po' in là Ah no c'era Mi serve un altro domenico L'ultimo da Grazie Molto gentile Qua no Scuro Aspetta le raccolte tutte giro solo No manca un fiore Libio sta a vedere che era là Che devo controllare l'angolo Troppi Oh mamma mia Ma smaccia Dove sei? Oh mamma mia Ma smaccia E' un viaggio Per me Fusca E' un viaggio 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 Grazie. 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 È venuta giù la scappa. Ho visto che è venuta giù la scappa. Guarda. 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 no vabbè porca demonio ragazzi quindi allora vediamo un pochino se qui lasciate indietro qualcosa a parte la vita oh che bello che bello vediamo il nuovo yoshiro intanto inizio a salutarvi se il video vi è piaciuto mettete mi piace se volete dirmi qualcosa condividete oh la seconda volta sbaglio se volete dirmi qualcosa commentate per far vedere il video agli amici condividetelo per restare sempre aggiornati su cosa esce sul canale iscrivetevi al canale e visitate la pagina facebook abbiamo sbloccato lo yoshishik ciao ragazzi